E' solo questione di ore, poi la nuova rivoluzione di casa Apple sarà realtà. Il lancio del Mac App Store, il negozio virtuale dove acquistare, scaricare e aggiornare applicazioni per il vostro Mac, è previsto infatti per il giorno della Befana. Lo store, proprio come già avvenne per i dispositivi mobili, iPhone e iPad, rivoluzionerà il modo di distribuire software per i computer griffati dalla mela morsicata. Verranno offerte applicazioni gratuite e a pagamento in diverse categorie, istruzione, giochi, grafica, design, moda, produttività e utility. Insomma, squadra che vince non si cambia, Steve Jobs vuole riproporre la ricetta che si è rivelata vincente per il successo di smartphone e tablet. Così il Mac App Store avvicinerà due mondi, mobile e computer, che prima comunicavano a fatica. Ma per il 2011 la Apple prepara altri eventi. A marzo uscirà l'iPad 2, mentre a giugno dovrebbe arrivare nei negozi il nuovo iPhone, il numero 5.